Il paradiso delle signore. Venerdì, 19 febbraio, 2021. Ludovica, dopo aver avuto un duro scontro con il Mantovano, è sicura di averlo allontanato, ed è quindi molto serena. La ragazza, però non sa, che il perfido uomo, sta ancora tramando contro di lei, e contro Marcello. Silvia, finisce di lavorare alla parrocchia, per l'evento di carnevale. E a questo punto, può partire per Parigi, per andare a trovare Nicoletta, Riccardo, e Margherita. Silvia, si prepara a partire, ma è sempre piena di tristezza, e nostalgia, per quello che è accaduto con suo marito. Prima di andarsene, assiste alla recita, e si emoziona, vedendo tutti i membri del paradiso, così vicini, ed affiatati. Pietro e Beatrice, lasciano definitivamente casa Conti, e si trasferiscono. Nello stesso momento, Marta, riceve una strana telefonata. E circospetta, e si assicura che non ci sia nessuno intorno. E, evidente che Marta, sta nascondendo qualcosa. Grazie a tutti.